ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo modellato oggi vi voglio parlare di un film che è appena arrivato nelle sale in genere parlo di politica ma ogni tanto parlo anche di cinema e soprattutto vi nomino questo film perché poi comunque c'è un messaggio politico o comunque un modo nel cui che è stato una filosofia di pensiero dietro questo film di cui vale la pena su cui vale la pena fare una riflessione ora sto parlando di batman con robert pattinson il nuovo batman del 2022 partiamo dalle cose buone voglio voglio partire dalle cose buone allora il nuovo batman è un film preso così com'è senza riflettere troppo su certi messaggi subliminali a cui arriveremo dopo che è un film direi quasi perfetto nel senso che recitazione molto bella fotografia molto bella e qui voglio fare un doppio complimento perché molto spesso ho criticato i film chi segue scazzo modellato lo sa ultimamente che sono un po piatti nei colori tendono al grigio sono scuri ma senza che ci sia un bel contrasto uno scuro che diventa solo qualcosa di inguardabile invece batman è molto scuro perché gotham city è veramente una città oscura dove c'è un cavaliero oscuro però ci sono i colori fatti bene i contrasti fatti bene l'immagine si vede bene quindi bella fotografia bella messa in scena a livello proprio visivo di visione sono delle delle scene molto belle con dei rallenti quando lui corre con la macchina quando lui salva la gente fatto veramente bene quindi buona recitazione buona la fotografia buona la regia ottime le musiche musiche di michael giacchino secondo me uno dei migliori compositori di hollywood se non lo magari il nome non vi dice niente ma è quello che ha fatto per dire ha fatto un sacco di film ma le musiche del cartone animato up uno dei cartoni animati più belli che secondo me che ci siano mai stati fatti o della serie televisiva lost che è una delle serie in assoluto più famose più conosciute ora qual è il problema quindi perché questo video si chiama batman bello ma c'è un ma che bello grosso un ma che a me ha sbattuto in faccia mentre guardavo il film in maniera piuttosto evidente ovvero un film che costa centinaia di milioni di dollari come le nuove produzioni in cui prendi il meglio del meglio come dicevo anche michael giacchino non voglio immaginare quanti soldi ha preso solo per scrivere le musiche di sto film non è un film dove ogni dettaglio ogni qualsiasi scelta è stata ben ponderata incluso il cast ora chi guarda scazzo moderato sa che mi occupo spesso volentieri di america quindi conosco bene non solo la realtà ma anche le statistiche vere e proprie no perché molte molto spesso si dice c'è la realtà percepita ma i numeri ti dicono altro ora negli stati uniti d'america i numeri reali quelli veri quelli insindacabili ti dicono che il 10 per cento della popolazione anzi un po meno ovvero gli uomini afroamericani commette il 50 per cento dei reati se vai a vedere la popolazione carceraria infatti malgrado siano una minoranza veramente minoranza nelle galere almeno il 35 per cento poi con punte molto più alte in base a poi dove sei perché questa è la media usa ma in certi paesi in certi stati ci sono pochissimi afroamericani quindi dovete capire che in altri si arriva anche al 50 per cento di popolazione carceraria di colore malgrado sia una minoranza che arriva al 10 per cento ok però questo vale solo nell'america vera reale perché nella gotham city di prodotta e immaginata da hollywood i neri non commettono crimini tu ti spari due ore e mezzo di film di batman che combatte i cattivi di una città infestata di criminali delinquenti che abusano e fanno soprusi sulle povere vittime innocenti e sono tutti bianchi i neri a gotham city non delinquono a gotham city i neri sono tutti buoni non solo non delinquono ma i personaggi protagonisti tolto batman gli altri buoni sono tutti neri allora guardatevi questa qui questa è una è un riassunto di tutti quelli che hanno diciamo interpretato uno dei personaggi chiave tipici di tutti i batman fin dalla prima serie tv che non è quella degli anni 70 che tutti ci ricordiamo ma addirittura del 49 questo è un batman del 49 non so se in italia è mai arrivato questo è il commissario gordon si vede sempre è sempre è il poliziotto che capisce che batman è buono e malgrado sia un vigilante mascherato lo aiuta nelle indagini ve lo ricordate questo la questa è la mitica serie che c'era anche su non lo so italia 1 dov'è che la davano che ogni bat ogni volta che batman dava un cazzotto veniva fuori la scritta capum po b boom e questo è il commissario gordon questo è il commissario gordon nel batman di tim barton quello dove c'era jack nicholson che faceva joker o insomma è questa è la trilogia di batman con gary oldman il bravissimo uno dei migliori attori viventi gary io adoro gary oldman ok questa è una serie tv dove c'è il giovane commissario gordon in una gotham city ancora prima che batman inizia a combattere il crimine e poi eccotelo qua il commissario gordon di oggi che casualmente è diventato afroamericano poi catwoman secondo voi com'è è la figlia di lenny kravitz zoe kravitz bellissima donna bravissima attrice non ho niente da dire però non è una scelta casuale quando fai un film da milioni di dollari spendi milioni di dollari ogni scelta è ben delineata questa chi è questa è la candidata sindaco che è la nuova speranza di gotham city quella che riporterà la moralità che riporterà l'ordine che farà tornare tutti buoni in una città che prima era marcia di criminali di cattiveria di ingiustizia eccetera lei in america il 10 per cento della popolazione commette il 50 per cento dei crimini statisticamente almeno il 35 per cento della popolazione carceraria è afroamericana ma non a gotham city perché a hollywood devono farti vedere che la città più marcia d'america i neri sono buoni e questa cosa sbatte in faccia in una maniera fastidiosa quindi il mio commento finale batman è un gran bel film ma la fissazione politica del regista del produttore e del direttore casting di voler per forza rappresentare in qualche modo evidentemente un colore della pelle migliore degli altri non so quali sia il messaggio che mi deve arrivare però è questo è questo che viene rappresentato rovina il film perché lo rende irreale tu non puoi vedere due ore e mezza di un giustiziere mascherato che pesta e trova solo criminali bianchi i cattivi sono tutti bianchi i corrotti sono tutti bianchi c'è il direttore distrettuale che è un corrotto il vecchio sindaco che è un corrotto i mafiosi che sono tutti italiani sono tutti bianchi i personaggi neri sono tutti positivi è una cosa che è triste ti mette tristezza quindi se li merita i 7 euro e 50 8 euro non so quanto costa in italia 9 euro 10 euro di biglietto questo film no non se li merita guardatevelo perché è una bella messa in scena come dicevo ma guardatevelo quando verrà il momento che lo daranno su sky o su italia 1 quello che sia fra sei mesi un anno due anni chi se ne frega ma il mio consiglio è non date soldi anche se sta andando bene perché è un bel film in teoria se lo stacchi dalle idee politiche insopportabili è un bel film ma non lo puoi staccare se conosci un pochino la realtà americana questa cosa ti sbatte in faccia a un tale livello che a un certo punto dici però però potevate anche evitare spero di aver evitato qualche informazione utile con qualche consiglio qualche spunto di riflessione non solo per chi ama il cinema ma anche per chi ama capire un attimo la cultura americana e che comunque tramite il cinema e la televisione arrivano anche a tutti noi mi si sta scaricando la batteria ma non è un problema adesso metto il portatile in carica ci vediamo al prossimo video state informati ciao ciao